Ho aiutato una famiglia a risonare un debito di 300.000 euro. Ti spiego come. Ad aprile ricevo una telefonata disperata. Armando, ho la casa che sta per andare all'asta in 30 giorni e mi servono 300.000 euro. Al che io dico, tra me e me, vabbè, potevamo aspettare un altro po'. Vado a vedere l'immobile e cerco di capire come intavolare la pubblicità, la campagna di marketing, in modo che possa essere attrattiva rispetto alle persone che potevano essere interessate sia a quell'immobile che in quella zona. Nonostante il numero elevato di visite, però, non riusciamo a trovare il candidato che aveva tutte le carte in regola. Se non che cominciamo a dividere il problema in due. Da una parte il debito che questa persona aveva con la banca, dall'altra la potenzialità di un eventuale acquirente a poter avere un mutuo che potesse coprire quanto necessario. Se non che ci capita finalmente il cliente ideale come acquirente e quindi lo mando dal mio consulente finanziario per il credito. La pratica esce tutta verde, semaforo verde, gli danno i soldi e quindi noi possiamo gestire una somma che abbiamo messo a punto nella trattativa. Il venditore, a sua volta, grazie all'affiancamento con il consulente del debito, riesce a trattare con la banca e a ridurre l'esposizione totale. Tutto questo avviene otto giorni prima dell'asta. Non potete immaginare la mia soddisfazione alla telefonata successiva nel momento in cui c'è stata la conclusione con l'atto fatto direttamente in tribunale tra acquirente e venditore, riuscendola a sfilare all'ultimo secondo dalle grinfie del tribunale. Quindi faccio questo lavoro non solo per i soldi, le soddisfazioni personali a volte vanno ben al di là della soddisfazione economica. Questa volta è andata bene, però poteva andare veramente male. Il messaggio è non aspettate fino all'ultimo quando avete un problema. In ballo ci sono i vostri soldi.